ok 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 adesso che devi fare forza di rosa levaggio la gamba della gamba la gamba della gamba e allora paura Aspetta, io sto da subito all'accanto. Eh, che bello, eh. Ma chi è del cinturano grosso? Eh, non è che... Magnole. C'era, mi do comprare una cinturana magnole. Sono giudicato la roba di Presidente di Giulia. Cioè, quando Roberto diceva, ah, sto presendo il giudizio, le regalo, le sindone, ti faccio bucche, ne so. Allora, sto vedendo l'inverno, eh, regalo. Dai. Cinque. Ok. Di nuovo? Allora, vai. Allora, l'idea ce l'avete. Cercavi di provare quello che abbiamo fatto in queste quattro lezioni. Guardi, guardi cosa facciamo da Greg. Bravo. Cerchi di prenderti quella gamba. Subito. Prova, prova, prova il caraviglio. Lui ci sono stati proteggendo. Impilati quella gamba sotto la cera. Bravo. Hai il giudizio. Il bello dei giardini. No. Aspetta. Lo faccio. No, lo faremo. Occhio, non sai perché hai sbagliato? Perché invece di mettere il piede qua, hai chiuso così e lui ti ha fatto un'altra parte. No, no. Esatto. Perché ti sei chiuso così, tu ti ha sentito abbassato, e non ci non piacessi. Vieni. Grazie. Un'altra parte, 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 un'altra parte. Grazie. 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 Grazie.